Buongiorno a tutti, oggi desidero portare avanti il ragionamento sulla relatività ristretta per vedere in che modo il fattore gamma di Lorentz incida in questa relazione. La formula della relatività ristretta è energia uguale mc2, la famosa formula che ha reso popolare Albert Einstein. Abbiamo visto ieri che la massa non è la massa classica, ossia quella che risulta dalla seconda legge dinamica che la mette in relazione alla forza, infatti secondo l'equazione della dinamica F uguale m per a, se noi isoliamo m, la a deve andare a denominatore della forza per cui secondo il secondo principio fondamentale della legge dinamica la massa è la forza diviso il valore in accelerazione e quando questo valore in accelerazione non esiste ossia esiste una pura e costante velocità la forza si riduce a zero e la massa si riduce a zero perché? perché abbiamo un sistema conservativo in cui la massa continua ad avere la sua velocità quindi si esprime in pura e costante cinetica e allora in relazione alla massa considerata come un sistema chiuso vale il primo principio fondamentale della legge dinamica che afferma che in un sistema chiuso si conserva sempre lo stato di velocità esistente sia che il corpo sia fermo sia che il corpo sia in movimento se è in movimento questo movimento proseguirà sempre costante e rettilineo sarà poi la seconda legge della dinamica che dirà che quando succede che questo corpo muta la sua condizione stazionaria in cui è fermo oppure è in movimento allora è intervenuta una forza esterna la quale ha indotto accelerazione o decelerazione a seconda del tipo di azione accelerante o decelerante espresso dalla forza quindi nella condizione della equazione di Albert Einstein noi abbiamo una massa che conserva la sua velocità che ha essa può essere ferma o no è una energia stazionaria che conserva sempre l'energia che possiede sia che sia ferma sia che sia in moto perché in essa va considerato un sistema chiuso in cui permane quello stato dinamico lo stato dinamico dipende dalla velocità ora nelle valutazioni introdotte da Lorenz ecco che cosa fu posto in essere come il fattore gamma lo vedete qui sotto gamma è la relazione tra la velocità c della luce e la radice quadrata del quadrato di c2 meno il quadrato della velocità u della massa quindi qui esistono due cose messe in radice quadrata da una parte c'è il riferimento di un piano di realtà che abbia perlato tutto lo spazio percorso dalla luce in un secondo dall'altra parte c'è la velocità reale che abbia una massa indipendentemente da quanta essa sia grande o piccola la quale abbia una velocità quindi è un puro confronto tra la velocità assoluta e la velocità relativa ad un mezzo considerato come una massa che mentre avanza in linea avanza anche in area di presenza con un valore che corrisponde a quello della linea questo per quale ragione perché quando noi abbiamo in realtà la percorrenza in un verso ed è l'unico verso che noi vediamo stiamo avendo quel verso come il lato di un comune volume che ha tre di quei lati nel piano della presenza allora noi avremo due velocità espresse anche se noi avanzando in linea ne vediamo una sola ora per rendere più evidente questo che stiamo dicendo visto che c2 è un area e u2 è un area io ho evidenziato nella radice quadrata una area rossa che è la differenza tra l'area reale presente in un secondo come il lato percorso dalla luce al quadrato e un lato di segno nero che è quello della velocità che abbiamo noi in relazione a tutto questo vedete io ho realizzato questo cubo in cui il cubo di cui sto parlando io è questo qui che vedete è un cubo il quale ha il lato rosso della velocità c mentre invece il lato nero è quello della velocità u che possiede una massa reale la differenza tra il moto lineare u e il moto lineare secondo c è quella superficie che è quella rossa perché io ho semplicemente sottratto all'area quella tutta rossa se il corpo ha velocità zero quel piano della u2 e risulta dunque che è presente soltanto la superficie rossa nel piano della presenza ora che cosa succede che quando accade così quanto vale a livello di volume quello che io ho tolto dal volume espresso da c quanto vale scusatemi ho questo qui che mi dà fa quanto vale il volume beh io ho disegnato qui un lato vedete che è la metà del lato della c quando abbiamo un cubo che rispetto alla velocità reale ha la velocità della c uguale al doppio abbiamo che il cubo che esiste in nero è esattamente un ottavo del cubo rosso quindi poiché noi abbiamo la velocità c come invariante e quindi esiste sempre il cubo invariante quindi il volume invariante quel volume resta invariante e allora che cosa è costretto a fare se il piano della presenza si riduce perdendo nel piano un suo quarto nel piano perde un suo quarto nel volume perde un suo ottavo quindi la profondità in cui esiste quel piano non è più soltanto di c che renderebbe cubica la c ma poiché il piano si è ridotto abbiamo che deve aumentare la profondità in un secondo perché in un secondo il flusso reale della velocità c è invariante di conseguenza quando andiamo a valutare tutto il volume ecco che cosa risulta che abbiamo che esiste in velocità c al cubo che si moltiplica per c è invariante come realtà di c e riguarda un volume in moto ecco questo volume in moto ogni secondo visto che il piano della presenza si è ridotto deve per forza aumentare la velocità c nell'asse che riguarda la profondità ora vediamo l'altro caso che è quello invertito diciamo così abbiamo ottenuto un risultato che ha ridotto a un quarto il fronte vedete il fronte non è più di quattro quarti quel quadrato rosso come sarebbe se fosse intero ma è rimasto solo in un quarto la sua ragione cubica messa dentro il cubo della c rivela che ora è ridotto a un ottavo ebbene quando il cubo presente è ridotto a un ottavo per poter contenere lo stesso volume invariante per forza deve moltiplicare per otto la velocità c perché abbiamo che la velocità c in linea è invariante abbiamo l'esistenza di un cubo che è c al cubo che poi avanza per c quindi noi il riferimento non lo abbiamo solo nel piano della presenza perché se noi abbiamo un mezzo che avanza nel piano della presenza e noi in questo piano sempre esistiamo il piano della presenza non è tutto infatti esiste sempre una linea perpendicolare al piano che è quella lanciata nel tempo quindi la vera velocità nel tempo è quella che come vedete va ed è diretta verso quel punto di fuga che esiste in tutti e due questi esempi allora quando l'area rossa ritornando nell'equazione di Lorenz si riduce e si riduce di più vedete nel secondo caso quello che vedete a destra rispetto a quello che vedete a sinistra nel caso di destra si è ridotto di tre quarti e allora visto che il cubo della presenza di c sempre quello deve essere per forza si lancia in velocità in profondità quindi il rapporto alla pari che noi abbiamo quando noi andiamo a valutare in questa formula una u per esempio che sia proprio uguale alla c allora è evidente che quando nella radice quadrata esiste zero perché la u nel nostro piano della presenza è divenuta nel piano un valore esattamente uguale a c noi abbiamo chiaro che sotto c'è uno zero la radice quadrata di zero è zero e allora risulta che il risultato è c fratto zero se questa espressione non è proprio uno zero perché altrimenti se fosse proprio zero noi avremmo un valore che non è valutabile perché ogni numero diviso per zero diventa non precisato diventa nullo ebbene noi se sotto avessimo un valore che tende a zero sopra avremmo una c che tende a infinito per cui che cosa dice il gamma dentro la formula di Albert Einstein che quando noi aumentiamo la energia cinetica della massa e raggiungiamo il valore limite di c2 e quindi praticamente noi ridurremmo addirittura a zero il colore rosso che è nel piano della presenza allora quando nel piano della presenza risulta praticamente niente più che un valore unitario allora abbiamo una tale lunghezza nel piano della profondità dell'universo che è quella la velocità occupata dal nostro presente che cosa significa significa in realtà che a mano a mano che noi aumentiamo il nostro giacere nello spazio ossia ci mettiamo in movimento e occupiamo uno spazio più lungo la relazione è sempre legata dal valore 3 a 1 noi aumentiamo la possibilità di presenza nell'universo e a questo punto saremmo in un universo raggiungibile in profondità perché è lì che realmente stiamo andando quando i contemporanei ossia quelli che non sono in movimento ci vedono in movimento allora cerchiamo di capire che cosa significa quando uno ci vede in movimento se io ho vicino a me uno che a un certo punto si mette in movimento ecco io lo vedo allontanarsi da me diventa apparentemente sempre più piccolo finché quando raggiunge i 10 chilometri di lontananza da me ossia quando è arrivato a metri 10 elevato a 4 la sua reale dimensione apparente praticamente si è ridotta a un punto senza dimensioni diciamo che non è proprio così sarebbe così se io fossi alto un metro ossia se avessi l'uomo che è vicino a me che si è messo dentro un cubo raggomitolato che sia un metro quadrato di area e un metro cubo nel volume voi avete visto benissimo delle persone che entrano in una valigia ecco entrare dentro un metro cubo è possibile a un uomo ebbene quando quest'uomo è entrato dentro questa cabina che è di un metro cubo e si è allontanato di metri 10 elevato a 4 di distanza da me a occhio nudo io non lo vedo più posso avere la vista acutissima di una aquila acuta come volete ma io non lo vedo più perché si è ridotto a un punto di fuga della grandezza apparente dunque vedete bene che la condizione di un movimento vista da uno che non sia in movimento pone questo uno che si è messo dentro un cubo a lato un metro in modo da sparire nel piano della mia presenza quando scompare quando appunto è arrivato al punto di fuga della grandezza apparente che è dato da 10 metri elevato a 4 ora cosa succede quando questo metro cubo arriva così in fondo se immaginiamo che lo abbia fatto in un minuto secondo in quel tempo lì questo cubo ha occupato tutti i metri che esistono in tutti è 10.000 io vi chiedo che cosa ha fatto si è forse moltiplicato per 10.000 o è rimasto sempre un metro cubo soltanto è un metro cubo che in un secondo occupa 10.000 metri in lunghezza e come può fare è possibile che un metro cubo che rimane sempre invariato sia si allunghi in questa maniera sì è possibile se a mano a mano che si allontana da me il piano della sua apparente grandezza si riduce prospetticamente e allora accade che quel metro cubo quando si è allungato per 10.000 metri nel piano della presenza di un metro quadrato di quanto si è ridotto secondo voi se questo cubo sempre un metro cubo è ma si allunga per 10.000 in linea di quanto si riduce in sostanza il suo piano per essere sempre quel volume è evidente che se un volume io l'ho allungato per 10.000 lo devo ridurre anche 10.000 volte nel piano della presenza perché il volume è sempre quello è allora un metro cubo diviso per 10.000 metri determina quanto sia il metro quadrato che è nel piano della mia presenza e allora io mi armo di calcolatore e faccio questo calcolo devo calcolare un metro cubo quindi il valore è 1 e dividerlo per 10.000 1 diviso per 10.000 che cos'è? è uguale a decimillesimo quindi vedete che noi non siamo di fronte a dei miracoli che sono compiuti le cose sono chiarissime se quel metro cubo che esiste io apparentemente per me che sono fermo in un secondo lo rendo veloce tanto che in un secondo occupa 10.000 metri è costretto per forza a ridurre nel mio piano della presenza quel metro quadrato che aveva quando era fermo tanto che adesso è un metro quadrato ridotto per 10.000 volte ecco vedete che realmente accade che quando noi abbiamo un corpo in movimento riduce il piano della presenza nei confronti di uno che è fermo e lo osserva mettiamoci ora invece nei panni di quel viaggiatore che si è chiuso dentro quel metro cubo e che in un secondo ha raggiunto la velocità di 10 chilometri al secondo che cosa significa che in un secondo ha occupato 10.000 metri in lunghezza e il suo fronte si è ridotto per 10.000 volte ora qual è la sua velocità limite sempre quella è perché sempre quella è perché la relazione tra il lato occupato da uno in un secondo sta al suo moto nel volume ora non più in relazione a un solo metro occupato in un secondo ma la sua possibilità è divenuta quella di 10.000 metri occupati in un secondo e il suo limite di 3 a 1 si è spostato molto più in là rispetto a chi era fermo o a lui stesso quando era fermo perché perché praticamente il suo riferimento cubico ora ha un lato che in virtù della velocità che ha non è più il metro che aveva quando era fermo ora in un secondo non occupa più un metro ne occupa 10.000 quello è il lato che al cubo determina la sua condizione di relatività generale e vedete che la relazione tra lo spazio occupato in linea e il tempo rimane costante è sempre tre volte a uno non la condizione fissa così come dire sclerotizzata di un osservatore che è fermo quando uno si mette in movimento vale per quello che vale lui egli mentre si vede passare dentro questo cubo in movimento se si osserva e si misura nota che il suo esistere è sempre lì dentro quella cabina di un metro cubo se c'è un metro con lui e la misura scopre che sempre un metro cubo è la presenza istantanea è sempre un metro cubo ma ora l'istante del nostro riferimento che è la durata di un secondo lo fa essere presente in un decimillesimo del tempo a parità di volume non c'è tutto che permane in un secondo ma in ogni posizione dello spazio quel metro cubo permane soltanto per un decimillesimo di secondo perché nel totale il suo metro cubo esteso a tutto il secondo implica diecimila decimillesimi di secondo che sono quelli che occupa in ogni momento quindi quando noi siamo in una condizione di questo tipo qui per noi il tempo avanza sempre nello stesso modo in cui avanza per chi è fermo rispetto a noi che siamo chiusi dentro questa cabina di un metro cubo il mio orologio è coerente con il suo perché perché io che sono dentro quel movimento lì ho una condizione che è quella stazionaria che riguarda solo me per la velocità che io ho sia che io sia fermo sia che non sia fermo le mie condizioni di presenza nel tempo sono condizionate solo da me ma quando entra in azione un riferimento esterno ecco allora cambiano le cose secondo voi quando dovessero esistere due uomini chiusi dentro un metro cubo ce n'è uno e un altro in un metro cubo affiancato ecco mettiamo che esistano solo questi due allora uno di quelli resta fermo e l'altro assuma questo movimento di diecimila metri al secondo secondo voi quello che è il movimento che cosa percepisce visto che è chiuso dentro quel metro cubo dal riferimento esterno a lui è esattamente come se l'altro si fosse allontanato di dieci chilometri perché ognuno vede sempre e solo la sua presenza di conseguenza quale dei due corpi si è messo in movimento allora interviene la massa che cosa è la massa è la massa è quella condizione che se uno veramente muta il suo moto il suo movimento e accelera allora evidenzia che tra i due cubi quale dei due cubi si è messo realmente in movimento perché se non avessimo questo dato potrebbe essere proprio la stessa cosa invece mettetevi nelle condizioni di quel corpo che all'improvviso è sparato a quella velocità che gli succede e sente su di sé proprio tutta la forza dell'accelerazione lo schiaccia lo deforma lo uccide se quel movimento è così brusco quell'altro che sta fermo sopravvive vedete anche se relativamente l'uno all'altro hanno la stessa percezione è l'accelerazione che entra in atto come massa non è l'energia perché l'energia che si riferisce a una massa non la può mai variare allora vedete bene che se noi abbiamo una condizione come quella espressa da Albert Einstein che l'energia è una massa conservativa perché non accelera è sempre secondo quella velocità lì non accelera allora se si ritrova come energia sempre in una massa che non accelera come fa Albert Einstein a credere che le condizioni di Lorenz implichino un accelerarsi della massa immediatamente quella massa che è energia cinetica quando dovesse mutare la sua condizione stazionaria in quella velocità non diventa più energia diventa massa quando mette il prodotto tra le due cose come una infinita accelerazione di quella energia cinetica mette in atto una condizione che non riguarda più l'energia ma l'energia che accelera e diventa massa ecco ma se accelera di quel punto e noi vediamo che accelera dobbiamo sempre tenere presente quello che succede realmente a un osservatore fermo perché è perché l'osservazione fatta da Albert Einstein in sostanza mette la presenza non di un osservatore fermo ma di un osservatore che abbia la stessa velocità del corpo che sta viaggiando perché se deve rimanere costante quella massa in movimento lo può essere solo se il punto di osservazione è in una massa che ha la sua stessa velocità ossia il caso è diverso rispetto a quello che io vi ho raccontato prima non abbiamo più due metri cubi in cui c'è dentro un uomo di cui uno è fermo e l'altro ha quella velocità lì non è quello ma perché quella velocità lì di 10.000 metri al secondo non sia considerata come accelerazione ma come velocità uniforme senza accelerazione vista da un osservatore implica che anche l'altro osservatore collocato di fianco a quella massa stia viaggiando alla stessa velocità di quella massa quindi praticamente qualunque sia la velocità della massa qualunque sia u l'osservatore rispetto all'osservatore quella velocità è zero perché è perché quella velocità che è costante e è osservata costante lo è solo se è vista da un veicolo che viaggia parallelamente alla cosa osservata e ha la sua stessa velocità perché altrimenti quell'altro avrebbe una accelerazione rispetto a lui e egli non vedrebbe più una velocità costante u ma vedrebbe un'accelerazione rispetto a lui dunque perché appaia che tutta la velocità della massa sia come la possibilità di compiere lavoro ossia energia occorre che l'osservatore ossia quello che sta nel cubo che osserva l'altro cubo viaggi alla stessa velocità del cubo osservato allora dice questo non ha alcuna forza di massa in accelerazione perché rispetto a me è fermo dunque come vedete noi o consideriamo una condizione in cui l'osservatore è fermo e l'altro ha quella velocità u e allora quell'altro anche se ha di per sé velocità costante appare sempre accelerato perché l'osservatore fermo si vede esistere in un metro cubo al secondo e osserva quell'altro che si è accelerato fino a diecimila metri al secondo e quindi non ci sono le condizioni espresse dalla relatività ristretta l'altro caso in cui noi abbiamo una massa cinetica in movimento se essa deve apparire non accelerazione della massa ma energia deve essere soltanto vista così da un osservatore che abbia la stessa velocità tanto che rispetto a lui quella condizione che lo affianca è vista sempre presente lì di fianco a lui non avere alcuna velocità oltre la sua dell'osservatore e allora vedete che le cose si trasferiscono dalla massa cinetica che è dentro la formula di Albert Einstein a una condizione generale in cui è l'osservatore che ha quella velocità lì ma se è l'osservatore che ha quella velocità lì allora quella massa è ferma e se la massa è ferma e accelera fino a c2 entrano in atto le condizioni di una accelerazione e dunque non siamo più nel caso della massa relativistica perché è perché una massa che accelera anche se è energia quando è ferma quando accelera fino a c2 diventa massa e l'energia non è la massa l'energia è la capacità di divenire massa se entra in atto il tempo di un movimento relativo all'osservatore noi non dobbiamo mai dimenticarci che abbiamo sempre delle relazioni tra chi osserva e la cosa che è osservata perché noi potremmo cadere in questo equivoco dire nel piano della nostra presenza noi vediamo in atto tutte le velocità quindi un soggetto che ha 10 km al secondo esiste nel piano della nostra presenza e considerare che il piano della nostra presenza non abbia una ripercussione in profondità ma se tutto esiste nel piano della nostra presenza come una velocità in linea è perché io osservatore sono fermo occupo un metro al secondo e vedo uno che invece ne occupa 10.000 metri al secondo e io non lo vedo di fianco a me fermo io lo vedo che o viene da quel punto di fuga all'orizzonte e in un secondo si è affiancato a me mi ha raggiunto oppure lo vedo esistere di fianco a me che in un secondo è sparito alla mia vista dunque vedete che il suo movimento è veramente sempre in atto di profondità rispetto all'osservatore è una pura schematizzazione così che sia il piano della presenza che contenga sia chi è fermo sia chi ha una velocità dentro questo piano della presenza è una pura sciocchezza perché in atto esistono sempre le condizioni di un osservatore che osserva un fenomeno e il fenomeno osservato nel piano della presenza generale nel tempo di un secondo pone come valori contrapposti tra di loro un cubo in cui sia io un metro cubo in cui sia io fermo che occupo un metro cubo al secondo e all'improvviso poff mi compare un altro cubo di fianco a me perché dalla fuga della realtà nella sua condizione di osservabilità da parte mia reale dal punto di fuga della distanza in un secondo è partito quell'altro uomo che era incapsulato dentro questo metro cubo e mi ha raggiunto è come comparso dal nulla ma da dove è arrivato forse dal piano della presenza o dalla profondità dell'osservazione vedete è solo illusorio il piano della presenza perché io lo posso ipotizzare ma se metto in atto dei movimenti immediatamente tutti i movimenti relativi a un osservatore fermo esistono nel tempo allora voi dite allora se è così cosa succede che visto che io non riesco a superare la velocità della luce quello che io ho come limite è il venire dalla profondità quindi io in profondità non potrò mai superare la velocità della luce ma chi te l'ha detto perché la cosa in sé è regolata da una legge che non dipende da te se tu non sei causa rispetto all'altro cubo che è un metro cubo che contiene un uomo e tu non agisci in alcun modo nei suoi confronti se non osservarlo il limite della tua presenza è un metro in una linea un metro nell'altra e un metro nell'altra il tuo limite è un metro cubo e tu puoi occupare in un secondo solo un metro cubo quell'altro invece che in un secondo occupa in linea dieci chilometri ha un cubo il cui lato è dieci chilometri il volume raggiungibile da lui a quella distanza messa in relazione proprio cubica ad essa dieci mila metri al cubo e se lo vogliamo riferire a te sono tutti da lanciare nella profondità con un piano che sia uguale al tuo allora mentre il tuo limite è un metro cubo il cubo di quell'altro che ha diecimila al cubo e quanti sono i metri cubi se noi facciamo diecimila al cubo vogliamo fare il calcolo e allora lo facciamo per non dire delle sciocchezze a parità del tuo volume che è uno metro quadrato se tutta questa cubatura la mettiamo di fianco a te come un metro quadrato anche per essa o altro che diecimila metri in lunghezza perché il piano della sua presenza quando è dieci chilometri diventa dieci elevato a quattro al quadrato diventa dieci elevato a otto il piano quando lo riduci di tanto da essere un metro quadrato come il tuo allora la sua lunghezza in profondità diventa dieci elevato a otto volte di più quindi come vedi il limite in profondità diventa sempre dieci elevato a otto volte la lunghezza del lato perché è perché è quel valore lì che si pone come unitario per chi si muove indipendentemente da quanto occupi in relazione di quella lunghezza quando noi ne facciamo un quadro un quadrato di quella lunghezza imponiamola come un dieci diventa dieci al quadrato il valore unitario è dieci elevato a dieci ebbene dieci elevato a dieci diviso dieci elevato a due è uguale a dieci elevato a otto di conseguenza per quel soggetto che è in movimento limite perché praticamente sembra avere a te soltanto la velocità di dieci chilometri al secondo altro che quello perché quella linea non vale solo nella linea vale al cubo ogni linea non vale solo di per sé vale sempre al cubo di conseguenza ogni volta che noi allunghiamo una linea aumenta anche la cubatura relativa e se noi la vogliamo conservare identica alla nostra noi dobbiamo dire che quel soggetto che secondo noi sta viaggiando a diecimila metri al secondo sta viaggiando molto di più perché perché la sua funzione è cubica e non è lineare di conseguenza vedete che la relazione implica che non c'è nessuna differenza tra uno spazio grande o piccolo occupato in lunghezza il valore limite sta sempre nel valore cubico di quella linea tanto che se uno ha una linea piccola occupa un volume piccolo se uno ha una linea doppia occupa un volume che è otto volte quello di chi non si muove e se noi lo vogliamo ridurre uguale a quello che non si muove proprio per confrontarlo vedremmo che la sua lunghezza per calcolo è andata otto volte più in là proprio perché noi lo abbiamo ridotto da otto a uno e allora deve valere per otto quando nel nostro caso non si tratta di otto ma di dieci elevato a otto abbiamo la condizione limite di un qualcosa che si basa sulla dimensione dieci del lato quando la dimensione non è quella dieci del lato ma è un'altra dimensione quella cubica parte da quella dimensione il valore dieci al cubo è un parametro generale di riferimento per ogni cosa tanto che noi possiamo capire perché dieci elevato a otto sia riferimento alla dimensione otto quella che ha la velocità della luce lo possiamo capire proprio in virtù di questo la velocità della luce che noi vediamo limite è proprio perché così è regolata in relazione al volume quando noi poniamo la presenza di un lato che è dieci allora il suo volume è dieci al cubo ma la sua area è dieci al quadrato questo dieci al quadrato esiste dentro dieci elevato a dieci e allora dieci elevato a dieci diviso per dieci al quadrato impone una lunghezza assoluta in dieci elevato a otto ecco vedete bene come il valore che noi stiamo osservando non è esattamente quello che ha detto Albert Einstein perché Albert Einstein con la sua famosa formula ha posto in essere delle condizioni che ha riferito soltanto alla velocità della luce e le ha collocate e ha usato questa formula qua di Lorenz per dire che la massa non poteva andare oltre la velocità della luce ma Albert Einstein sta dimenticando che quella massa reale che va alla velocità della luce in apparenza non sta andando a quella velocità lì ma sta andando al cubo di quella velocità lì a noi rimane così uguale quando praticamente la dimensione è costante rispetto a noi ma quando non è più costante rispetto a noi perché il lato non è più lo stesso e il cubo dipende dal lato allora il cubo occupabile da chi occupa un lato più lungo perché è veloce diventa più grande se noi lo vogliamo paragonare allo stesso cubo che esiste alla nostra presenza dobbiamo ridurlo nel piano della presenza ma non è che facciamo sparire la realtà immediatamente entra in azione quella velocità incredibile che esiste in profondità